Restaureranno un MB339 in disarmo dell'aurenautica militare a Fano, lo stesso che usano le frecce tricolori nelle loro esibizioni in una tensostruttura realizzata appositamente per loro, oltre a prendere confidenza con le comunicazioni radio tra piroti e torre di controllo, apprenderanno anche le nozioni basi di pilotaggio attraverso l'utilizzo di simulatori di volo e realizzeranno anche modelli in scala dell'aeroplano. La strabiliante idea, prima assoluta in Italia, non poteva che venire da chi in questi anni ci ha abituato ad esaltanti ed emozionanti avventure nel mondo della solidarietà attraverso l'emozione del volo, mettendo a frutto la loro professionalità e la loro esperienza di piloti. Abbiamo un po' così, preso l'idea, elaborata a modo nostro, c'è venuto allo spunto di lì di creare appunto questo progetto che porti insieme ai ragazzi del reparto di neuropsichiatria infantile di Fano li porti per mano, pian pianino, dentro il mondo dell'aviazione, dentro il mondo del volo e appunto con tutta una serie di iniziative dove il clou sarà appunto il restauro di un aeromobile donatoci dall'aeronautica militare che sarà posizionato qua a Fano in una tensostruttura e che restaureremo insieme coi ragazzi. È un'iniziativa unica nel suo genere in Italia è la prima che c'è di unire questi mondi così diversi apparentemente e poi alla fine conoscendoci con tante similitudini. È un progetto ambizioso però è un'iniziativa, la cosa bella se vogliamo, che è un'iniziativa completamente privata e non fa uso di soldi pubblici, di niente, ma del buon cuore delle persone. Insomma una full immersion nel mondo aeronautico. Questa esaltante didattica e esperienza sarà vissuta alquanto presto da dieci pazienti affetti da autismo della neuropsichiatria infantile di Fano, otto ragazzi e due adolescenti che saranno seguiti anche passo passo in questa formazione dagli stessi medici del centro. È un'esperienza che riguarda l'abitudine alle procedure dell'aeroporto, che riguarda poi la possibilità di imparare a assemblare ed aggiustare aeroplani, riguarda ragazzi fondamentalmente di sedici anni, c'è qualche più piccolo, che devono cominciare a pensare a che cosa potranno fare in futuro. Quindi la Valencia è insegnare delle azioni che anche se non direttamente usabili e utilizzabili all'interno di un aeroporto possono essere utilizzabili in altri ambiti, quindi che preparano un'attitudine e una capacità lavorativa. Consideri che tutto questo laboratorio che prevede come tutor due persone dell'Aerobatics sarà supervisionato dai nostri analisti comportamentali. Questa mattina allo Skydive Center dei Paragautisti nella zona dell'aeroporto tutti i protagonisti di questa bella pagina di solidarietà erano presenti, sindaco, aeroporto, associazioni di genitori e piloti che ormai hanno deciso di dividere parte del loro cuore per donare un sorriso a chi vive una condizione di disabilità.